Ciao a tutti e benvenuti. In questo video vedremo alcune pirografie. Iniziamo con una pirografa basica e vedremo come preparare l'aria e come trasferire un'immagine per essere pirografata. Grazie. 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 Iniziamo. Prima di tutto smuoviamo l'aria con un peggio di sand. Useremo un peggio di sand per ottenere un peggio di sand. Un peggio di sand. Un peggio di sand. Un peggio di sand che evitereà stoppare il peggio mentre lavorando. Grazie a tutti. Secondo passo. Dopo preparare il cibo, draw a drawing on the wood. We will use a drawing and carbon paper to transfer the design to the wood. We will use a drawing on the wood. Take care. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.